Approvati in questi giorni dal Consiglio di Amministrazione della Riserva di Torre Quaceto quattro progetti per il potenziamento della tutela della riserva naturale dello Stato e area marina protetta e per la rinaturalizzazione delle aree degradate. Il primo punto a rendere le strutture del Consorzio completamente sostenibili con l'implementazione delle guanine fotovoltaiche già predisposte sugli edifici della disponibilità dell'ente, l'efficientamento degli impianti e la realizzazione di una stazione di ricarica per mezzi elettrici. Il secondo prevede invece un miglioramento dei segnalamenti del perimetro dell'area marina protetta, l'installazione di un sistema di videosorveglianza che permetta un costante monitoraggio dell'area protetta e la realizzazione di un approdo per i mezzi nautici del Consorzio e delle Forze dell'Ordine. Mentre il terzo punta al potenziamento del contrasto alla pesca di frodo non solo nell'area all'interno dell'area marina protetta di Torre Quaceto ma anche nella zona speciale di conversazione Torre Quaceto e Macchia San Giovanni alla disposizione del piano di gestione della pesca ed alla realizzazione di azioni di informazione e formazione dell'area marina protetta. Il quarto e ultimo progetto approvato prevede invece un intervento che si concentrerà sulla zona di Apani ed è finalizzato alla rinaturalizzazione di un'area che negli anni ha subito un forte impatto antropico.